Le immagini che vedete sono la celebrazione della memoria di un atleta straordinario, un ciclista che abbiamo tutti amato alla follia, si chiamava Marco Pantani. Quest'opera, questo monumento, una statua in bronzo in grandezza naturale, sorge in piazza Marconi a Cesenatico e ha una storia un po' particolare perché tecnicamente è stato inaugurato il 28 maggio del 2005. Tuttavia all'epoca la prefettura non concesse la deroga per poter intitolare il monumento al campione in base a una norma del 1923 che prevede che in Italia l'intitolazione di un monumento debba avvenire almeno dieci anni dopo la scomparsa della celebrità che era presente. Insomma una storia un po' all'italiana che però finalmente il 14 febbraio del 2014, quindi dieci anni dopo la scomparsa, ha permesso di ufficialmente intitolare questo monumento al campione. Un bronzo bellissimo, molto suggestivo, c'è chi dice che si possono scattare meravigliose fotografie quando la luna intreccia i suoi raggi con quelli della bicicletta di Marco. Quello che mi interessa raccontare oggi è la storia dell'artista che ha realizzato quest'opera. Si chiama Emanuela Pierantozzi, un'artista bolognese che ha una storia un po' particolare perché in realtà ha portato al nostro paese due medaglie olimpiche nella disciplina del judo. Argento a Barcellona 92 e bronzo a Sydney 2000. Un artista straordinario, evidentemente il judo ha qualche cosa a che fare col mondo dell'arte, c'è anche un'altra storia bellissima di un judoca pazzesco, fortissimo, che si chiamava Yves Klein, un francese che poi è diventato molto famoso nel mondo dell'arte, ispirando il mondo intero con i suoi monocromi. La particolarità che vi voglio raccontare oggi è che quest'artista, Emanuela Pierantozzi, questa atleta straordinaria, poi con dei ruoli anche molto importanti all'interno del CONI, poi diventata scultrice, fa parte di una fondazione, è membro artista di una fondazione che si chiama Art of the Olympians, che vi invito a visitare sul web. Scoprirete 60 campioni assoluti olimpici, tra i quali per esempio Bob Beeman, che sono diventati artisti, pittori, scultori, poeti. Domani vi racconterò anche la storia di un altro atleta olimpionico, che è quello che ha avuto l'idea di creare Art of the Olympians.